Oggi vediamo un cartiere di tipo nuovo, vediamo cosa c'è, non lo so nemmeno io. Vediamo tanto che non esce gas, forse non aumenta la fiamma. Beh, dobbiamo smontarlo, come lo smontiamo, c'è una vite sotto, questo si dovrebbe estrarre. A questo punto bisogna sfilare la custodia. Ok, perfetto. Dopodiché dobbiamo usare... Se questa è davvero... Dobbiamo uscire questa spina. Adesso ci siamo. Questo deve essere il battoio. Scorichiamo il gas. So... Non c'è più. Spettiamo. Spettiamo. No. Spettiamo. benissimo solo che esce poco e c'è una regolazione di massimo rimandiamo guardate mettiamo questo di nuovo ok adesso va bene rimontiamo facendo attenzione resta bene ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' una cosa importante. Grazie a tutti. Agendo... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.